70 anni fa le donne votavano per la prima volta in Italia. Per celebrare la ricorrenza si è svolto un significativo evento ieri a Isernia nel salone di rappresentanza del Palazzo del Governo. Nel 1946 furono ripristinate le consultazioni popolari per l'elezione delle amministrazioni comunali e provinciali dopo la lunga sospensione della democrazia operata dal regime fascista. Contemporaneamente si svolse anche il referendum istituzionale per la conferma della monarchia o l'istituzione della Repubblica. La giornata si è aperta con la proiezione di un video realizzato con immagini dell'epoca dagli studenti del liceo classico Giordano di Venafro. Sono seguiti i saluti del prefetto di Isernia Fernando Guida, del rappresentante dell'ufficio scolastico regionale Pasquale De Feo e della presidente della sezione isernina della FIDAPA, Federazione Italiana Donne Arti, Professioni e Affari Rita Santoro. Particolarmente interessanti le video interviste proiettate e le testimonianze dirette. Toccante quella di un'elettrice 94enne che ha potuto partecipare personalmente raccontando dal vivo le emozioni di quel giorno. Sullo sfondo una esposizione di documenti dell'epoca, tra i quali il modello della scheda elettorale per l'elezione dell'Assemblea Costituente.